Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLi, dove per lavori di miglioramento della sicurezza adesso ci sono due chilometri di coda tra Montelupo-Fiorentino e Ginestra-Fiorentina in direzione Firenze e un chilometro di coda tra La Strassigna e Montelupo in direzione Livorno. In A1 code a tratti per il traffico intenso in direzione Bologna tra Firenze e Impruneta e il Bivio con la variante di Valico. In direzione Roma code tra Aglio e Calenzano-Sesto Fiorentino. In A11 in direzione Firenze rallentamenti tra Prato-Ovest e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!